Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e oggi faremo delle stampe per riprendere al meglio la scuola. Io ho preparato per tutti gli amici dei salvoorecchi normali e di Star Wars, come potete vedere. Abbiamo creato un modello di Covid-19 d'arancio, come questo qua. Poi abbiamo creato anche la mia moneta, il Riccardo Bucks, come potete vedere vicino al Covid-19 d'arancio. Ora proviamo a stampare il Covid che si può lanciare ad assemblare, però ricordatevi, la stampiamo è l'ABS, quindi dovete mettere sempre la maschera antigas e non le mascherine. Un buon inizio di scuola, ci vediamo sul mio canale. Ciao!